Buongiorno a tutti, oggi volevo fare la recensione dell'eyeliner di precisione, questo qua della mark big dot, che è quello con la punta sferica, uscito in campagna 12, prezzo di lancio di 5 euro e 50, questo è il prezzo di lancio e questo è cosa potevi fare con questo master eyeliner, allora l'eyeliner è classico eyeliner a penna con la puntina sferica questo preciso me l'hanno mandato in omaggio quindi non l'ho pagato anche perché non l'avrei comprato, quindi l'ho provato e l'ho usato, ho avuto un po' di dubbi sulla stesura per via della punta sferica pensavo che magari viene bene per fare i pallini ma la codina in fondo magari non viene proprio bene si riesce invece a usare, nonostante la punta sferica, la codina in fondo non viene proprio puntita puntita però non viene male l'unico problema che ho riscontrato con questo eyeliner, magari è il mio, che non scrive tanto, nel senso che appena lo metti, dicevo si scrive poi si sporca facilmente la punta e il colore viene sbiadito, bisogna passarlo più volte, passando più volte ad esempio la coda in fondo, questa qua non è questo viene via e quindi bisogna aspettare che sia bene asciutto, ripassarcelo sopra, scrollarlo, chiuderlo e no in generale ho riscontrato che un po' il problema degli eyeliner in penna è quello che si sporcano di ombretto e questo riduce la scrivenza non ha avuto lo stesso problema con quello con la punta angolare, invece con questo si la pallina la fa bene potete farla più o meno i puntini sono molto carini, però vedete che rispetto al primo quando ho premuto vedete che ho premuto molto di più, allora scrive, mentre invece stendendo una riga vedete qual è il problema questa è la scrivenza, io l'ho usato anche molto con il piatto di piatto, quindi appoggiandolo e tirandolo e già funziona meglio non è comunque una riga scurissima ecco, magari in video sembra più forte, però in realtà non è una riga scurissima il tratto non è preciso, bisogna passarlo più volte quindi, in sostanza, questo eyeliner a me non piace in linea generale non mi piacciono gli eyeliner fatti così quello, come ho detto prima, con la punta angolare invece l'avevo trovato buono, con una buona scrivenza ma in linea di massima no consiglierei questo eyeliner? dipende se vi piace l'idea dei pallini è sicuramente simpatico è sicuramente un prodotto simpatico fanno molto di moda i pallini in giro per la faccia quindi se vi serve per questo motivo sì se vi serve da usare come eyeliner normale personalmente lo sconsiglio meglio meglio prendere la matita l'eyeliner, la matita in gel quella scrive molto bene quella ha un bel tratto questo no, personalmente no da usare come eyeliner normale assolutamente no da usare come divertimento per i pallini assolutamente sì ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti